Vedo un carro armato nemico, si trova a sud della tua posizione. Questo è il nostro avversario. L'obbligo modetta è stato conquistato. Olvoma. Ora l'obbligo addio, si trova a sud rispetto a te. soldato nemico con anticarro assurdo rispetto a te che non si può essere un soldato nemico con anticarro assurdo che dove ti trovi al momento abbiamo appena perso l'ottentivo delta un soldato nemico un soldato nemico con antico un soldato nemico con antico un soldato nemico un soldato nemico con antico un soldato nemico con antico un soldato nemico un soldato nemico un soldato nemico un soldato nemico con antico nemico con antico un soldato nemico con antico